Alessia Cacciatore, torniamo a parlare del centro di urno di Penne. Voi vi siete lasciati con il vecchio gestore del centro di urno, con la rivederci all'inizio dell'anno nuovo, quindi al 7 gennaio. Invece così non è stato, i vostri ragazzi sono a casa. Allora, purtroppo, ahimè, è vero, ci siamo lasciati il 20 dicembre per le festività natalizie, eravamo ben tranquilli di tornare il 7 al nostro centro sociale, dove i ragazzi si trovavano ultimamente molto bene. Il 7 gennaio, invece, ci siamo ritrovati a fare dei colloqui conoscitivi col nuovo gestore dei servizi che ha vinto il bando di gara. Era un bando di gara per disabili maggiorenni non sanitario, quindi la nuova gestione, che si tratta della cooperativa SGS di Lanciano, si è trovata spiazzata in quanto non ci sono i requisiti per la frequentazione di questo centro, perché diciamo che l'utenza non è solo grave, ma è gravissima, ma questa nuova gestione non era a conoscenza delle patologie di questi ragazzi, quindi si sono trovati con necessità di assumere, ma anche diciamo a livello sanitario, un osso, un infermiere, per fare quindi, comunque sono in stand by senza assolutamente sapere come muoversi e per gestire la situazione. Che cosa chiedete voi, anche al nuovo gestore e all'ECAD soprattutto? Di avere pietà, come abbiamo chiesto nelle altre manifestazioni, di farci tornare alla quotidianità, a far uscire questi ragazzi a un centro adeguato per le loro patologie, non solo per quelli che camminano e parlano, ma per tutti, perché quelli più gravi devono rimanere a casa e perché non fanno parte del setting non sanitario. Cioè è ridicola la cosa, cioè veramente siamo senza parole e soprattutto non sappiamo come muoverci.